bandini e rieccomi comunque raga ecco l'aggiornamento prima cioè si è staccata tutto c'era da mi sono sbocciato per far si è staccata la registrazione vabbè questa è la continuazione pubblicherò due video due video l'aggiornamento per chi non è ancora online tutti perché tutti saranno dell'aggiornamento è tipo questo e noi siamo in questo cerchio perché c'è questo aggiornamento in questo gioco che noi dobbiamo rincorrere l'uomo senza testa cioè adesso tipo non è che ci lo dobbiamo inventare ma ci lo fanno solamente per il gioco eh sì questo sappiamo e tipo cioè dobbiamo raccogliere eccolo ma questo che minigame è? teletrasportativo era certo è questo ma io già sono qui c'è vabbè raga c'è vedo qua si sperano c'è vabbè infatti io allora io ho cacciato il mio cervello dopo vi faccio vedere lo shop tutto e poi eccoci eccoci nel minigame ecco quale moto eccole qui dai facci partire eccoci oddio mio i costi no no mi ho fatto mi ho fatto sbambare è cattivo cattivo aiuto se io sono indietro non posso riuscire a prendere nemmeno una caramella e dai costi no ma che rompino e dai non è possibile mamma mia e basta e cosa si si illumina ok sto riuscendo sto riuscendo sono in ansia e dai però costi lo stai rompendo stai rompendo eh dai meno male eccolo 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 mi sa che ho vinto vabbè e dai non mi fate perdere tempo costini aiuto no no vabbè no vabbè no vabbè ho perso ho perso ho perso ho perso mamma mia ho perso e dai fate c'era da non capire c'era da non riesco non riesco dai ecco lo sorpassato ok ok nice 600 caramelle che stifo vengono meravigliano magari la nulina la coppia io ne ho 600 me la propria potrei comprare raga adesso mi faccio vedere mi faccio vedere l'evento torteggio ho visto anche il testo per la registrazione mi faccio vedere allora questa è la parte molto figlia molto figlia molto figlia e quasi può andare a nuovare allora che bella mi faccio vedere adesso andiamo andiamo a nuotare guardate che bello fondo mamma che bello raga sembra che c'è l'oceaneg mi sembra che c'è l'evento dell'oceaneg mi sembra c'è raga ok guardate mi senti per qualcuno che ha molta paura di qualcosa c'è raga tipo a me raga fanno paura c'è non fa paura niente e qua raga ecco questa parte qua se parlate voi qua questo è il creatore in roccia e vi c'è voi sentirete la la voce del creatore e qui è lo shop come vedete guardate shop guardate noi fanno parlare qua c'è lo shop guardate non c'è nessuno se non avevo prendere delle cose qui c'è lo stroller qua tutti i stroller faccio vedere così guardate che belli questo me lo potrei comprare però beh poi abbiamo i petware questi qui poi ci abbiamo tre pet uguali e guardate lì che belli c'è adesso c'è ci sta il gatto a mummia il white mammy cat il il black mammy cat il go è il golden mammy cat che è impossibile da trovare poi ci abbiamo questo bellissimo è il mio preferito che levi il dog duck suite va bene non so io lo chiamo il dog poi il ghost dragon che costa robux mille robux che diventerà tipo raro come lasciato sicuro poi lo lo schede dog che costa che costa 1200 che non posso prima e lo spettino che è più che costa di meno e raga io voglio prendere una box che c'è 665 caramelle me la prendono è la prendo avendo 3 2 1 vai 65 carino non si vede non si vede allora togliamo se l'icona allora vediamo nei regali come ecco la raga sembra halloween mammy cat box mamma mia allora la pro noi guarda che bella la pro 3 2 1 vediamo 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 vabbè che carino halloween è comune sicuro è comune sicuro è comune sicuro sì no adoro adoro aspetta vediamo un attimo sul journal, vado su pezzo c'è vediamo c'è vediamo qualche nuove raga c'è 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 vediamo la mega eh vediamo la neon mega bellissimo bello adoro adoro di game poi che carino andare a fare altri non è perché la black mammy pet e non comune neone gli si umina la coda c'è a duro e vabbè non so poi the white mammy cat è raro invece e poi raga allora ci prendiamo ci prendiamo pure questo palloncino a zucca adoro vediamo non lo fa a vedere però oh my god che cosa ma devo fare così no ora io prendiamo che carino l'immagine e dai ma perché sono invisibile no raga ma no no non è un bug sicuro c'era che è un bug di adottimi forse dell'aggiornamento eccolo bello e qua amo si fa saltare un minuti come ho fatto arrivare raga allora andiamo andiamo ma che fetta porta a noi no perché è un sito ah e poi tipo ah raga comunque è quasi aperta la botola ti potrebbe allontanare ecco qui raga allora non c'è letteralmente nessuno qui e allora adesso allora vediamo come possiamo chiamare questo nuovo gattino allora lo chiamo il mummia mummietta vediamo mummietta se me lo fa fare mettendolo censura mummietta il mummietta e dai non c'è un sacco di caramelle di cose vediamo che era meno mille lo facendo così il mummia raga lo chiamo il mummia save vediamo se me lo ah meno male non me l'ha censurato ma peccato che non c'è una funzione ride se me la riesco a comprare eccola se lo faccio pure ride no no e voglio di no la voglio nel trade ok raga io vado nel gioco di cosa senta testa ecco pure io voglio farlo questo minigame è quello di prima cioè francese è il primo c'è vabbè comunque allora questa è l'icolina guardate raga vabbè raga questo già lo fatto su minigame quando inizierà l'altro minigame lo facciamo che non ho capito che però l'altro minigame a che serve non so come eccoci yes è qua o no si o no no eccolo il minigame raga ecco questo è il secondo minigame raga c'è un vostro dragon halloween white ghost dragon di chi è mon mon di chi è su costino dragon join poten te minigame ma che raga io non capisco cioè guardate non capisco cioè non capisco raga non capisco come cioè no è ma tu hai capito il secondo minigame cioè ma anch'io non ho capito io non ho capito se non ho capito se non ho capito se non ne riesco a capire ma che forse ci dobbiamo mettere una pozione vecchia no no non capisco raga cioè no un toy è impossibile ah allora tall glow mushroom ok ho capito mushroom allora dobbiamo andare ho capito noi dobbiamo andare fuori cioè raga non so se c'è se questo la cosa dobbiamo andare fuori vicino alla casa dov'è dove è exit dai dov'è no che sto facendo oh eccolo eccolo oddio no vabbè ecco dobbiamo dobbiamo andare dobbiamo andare a trovare altri c'è ecco no no allora raga ok mi piace troppo eccolo un altro ok ma vediamo ma non toys si raga dove dei toys allora dobbiamo gironzolare un po' eccolo un altro no 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 che ci sa qui ma che ci sa ah va bene non ho capito vediamo nello shop dei poti ogni minigame 180 caramelle ok 180 caramelle mi ha dato un altro ce n'è un altro uno è ma che è qui che lampeggia è un altro cioè io ho avuto ah ma non me le mi ha tolto ok dai abbiamo capito questo questo minigame raga dai ne passa la pena è vero dai ah qua non sono spariti i cartelli allora quanto manca per di nuovo il game raga comunque raga se non l'aveste capito questa è la continuation del primo video che ho fatto sono due video che pubblicherò raga non si vede non si vede no raga ok no raga non è morto no ma mia raga no dai non chiudere non chiudere ok qua potrebbe prendere meglio cioè raga non prende tantissimo dove è lei ok mi mette da sport io dico non vado non vado non vado adesso mi richiamo cioè raga non riesco che io la connessione raga lo ce l'ho raga adesso la sto provando a chiamare ok sto richiamando sto richiamando sto richiamando in corso raga non capisco e raga se non mi risponde poi faccio ah no è un'altra chiamata raga vabbè poi vedo se mi chiama forse mi sta chiamando lei eccola eccola noè mamma mia io ti chiamavo a te e tu mi chiamavo a me vabbè comunque io l'ho capito sto minigame cioè è facilissimo a next game in 15 secondi boh boh poten game allora adesso andiamo a fare l'altro minigame però che peccato non c'è il il telelast tra quanto 15 minuti ok ora noi devi andare su e tu devi andare che c'è ok 5 minuti c'è ma c'è no vabbè franci mi mancano 25 caramelle per ripare al 600 oddio veramente eh 575 ce ne ho next game 55 minuti no 25 minuti è un po' oh mamma mia no io ci vado là veramente ok vabbè usciamo e vediamo lo stai registrando si sto registrando ok allora vediamo qua se quanto manca per questo allora è bella atmosfera la dura guardate il gattino guardate che bello c'è dopo che l'ha scritto no swimming no swimming e noi ci notiamo infatti comunque io devo andare ok ciao ciao ci vediamo un atto giorno domani domani vabbè ciao 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 ok raga chiuso peccato vabbè dobbiamo stare un po' soletti soletti vabbè manca tanto perché sto in game manca tantissimo veramente troppo troppo c'era al centro non c'è nessuno veramente nessuno c'è solo una persona perché c'è oh lo scorpione che carino allora scu- ah ok accettiamoci il trade ho definito che sbaglio allora vediamo che mi dà per questo eh si raga eh raga no io accetto se me li dà questi io accetto raga si raga non mi dà ecco ho capito ho capito pensavo no deve andare ma dare pet ride no però deve andare anche se sono comuni però deve andare che mi piace più più gattino che questo ad non ha capito che deve andare cioè non capisco non capisce vabbè se non mi andrà non mi andrà di dietro vabbè se raga d'oro il nuovo aggiornamento 20 giorni raga se ne andrà allora affrittatevi a comprare tutto cioè affrittatevi e comunque e comunque vediamo quanto manca per l'altro video no perché sono uscito per la botola raga devo andare cioè raga mi devo imparare adesso che la botola è aperta andiamo cioè raga questo allo in 2021 mi sta piacendo tantissimo raga è molto 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 particolare allora di qua dobbiamo andare ok sentite io sento la la voce di jessy cioè adesso mi faccio sentire la musichetta cioè non lo so ne sento zitta raga cioè raga è tipo una musichetta che tipo è tipo un ronzio di 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 come si chiama di come si dice raga di di pozioni che che mischia cioè raga duro cioè ecco quale all magic cold room e vieni gattino muoviti quando manca perché io lo voglio rifare questo perché mi sta piacendo e poi facciamo quell'altro oh ghost dragon ok di chi è è sempre della stessa persona vediamo moon vero leonissa vediamo se lui non capisco credi ride panda già lo scusa allora eccola no non è lei raga non è lei vabbè aspettiamo del prossimo minigame farò un altro minigame credo che c'è chiudo un video credo c'è c'è veramente raga mi sta piacendo tanto non l'ho già detto cosa la terza volta che lo dico ma però raga non so di di sia credo che è suo eccola la tizia e da non posso mandare il tweet allora dico please trade dai ma forse non credo che sta giocando ciao Francesco sono Sara ora che la cucina di Giorgia ti piace il nuovo update update mamma mia ragazzi nostro update comunque sto reg c'è saluto i pandini saluta i pandini ok pure lei piacciono i pandini sono molto 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 di ciao lei questo è questo allora allora dico sto aspettando aspettando il mini game che inizia ok ok raga cioè dai quanto manca raga vediamo vediamo dove è la scritta ok 8 minuti 8 minuti ancora presto vabbè può darsi pure allora io vado un giro per la mappa in allora per la mappa in tanto che aspetto soviglia soviglia mappa mappa mi sta chiamando soviglia di mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia sto in chiama con sofia siccome siccome sto sto costara su la doppia comunque guarda che bello dico sarà guarda che bello io sento 180 caramelle ad una nuova bandini comunque vai saluta i bandini mamma mia quanto manca e si chiama band in tutto sempre alla scusa 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 bandini non ti chiamavano in tutto vabbè di adotti no ma era ma io te l'avevo detto che era oggi ma si scordata quello no quello dell'avatar no mi fa schifo veramente bandini fa schifo quello di dell'avatar raga veramente è meglio per me fa schifo perché c'è tutte le skin i robux cioè bandini a voi piace eccomi diceva che i creatori di robux volevano creare ecco ho letto che i creatori che i creatori che volevano rendere un po' più in un reale diciamo le skin le ali così allora ti voglio dire sta cosa ma non possono aggiornare roblox i creatori di adotti eccomi oh mamma sarah raga mamma mia mi sta esplodendo il telefono sto chiamando sarah mamma mia ti voglio dire no 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 wi Fioriello, Sara cugina di Sara e Sara cugina di Giorgia Sara, saluta i bambini Aspetta, fammi vedere un attimo la tua faccia Eri quella, sì, eri quella che ti ho, no, ti ho visto a scuola Eri ti ho visto tutte le volte Eh, io ti vedevo in classe, ti vedevo, vabbè, pandita, ti lasciate Allora, io mi faccio la schiena di... No, vabbè, riconnessione, ma io lo tengo in connessione, non sono io Non so io Cioè E? E? Così, no Che adoro il nuovo aggiornamento, vabbè Vabbè Per sentire il sottofondo, non ci posso fare niente Vabbè Vabbè Avevo trovato? Eh, tipo la, 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 ti scelto di panda Che cariiiina C'era, come? Beh, di Super Sonic, però sembra tipo panda, aspetta Oh, il Ghost Dragon, Ghost Dragon, che ci do? Voi due avete qualcosa che hallo, con il tuo petto Eh Eh Io si, il Ghost Io ce l'ho Allora Allora Raga No No Eh no le parolacce, pandini, dite no le parolacce, vabbè La dico sempre pure io sta parolaccia, ma non è proprio una parolaccia, beh Oh mio Dio, 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 oh mio Dio Ma no, certo, bambini, ma è il nuovo pet, è il nuovo pet Ma perché lo scambi? Non lo scambiamo Raga, mi stanno dicendo di no, che devo fare? Non lo scambiare No, se mi ha accettato, pure il secondo trade, bambini, che devo fare? Sono in difficoltà Vabbè Bambini, ditemi voi se faccio bene o male nei commenti Io De Quino Vabbè De Quino Un altro trade, Bat trade No, 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 veicoli no, veicoli no Voglio essere ariana grande Ariana grande Già sei ariana grande Mamma mia raga Mamma che battuta Dove sei? Qua Eccoti Allora, facciamo un altro minigame Comunque io ho dovuto fare due video Due video Due video Due video Io ho già detto, bambini Io chiudo un attimo la chiamata Ok Eh boh, davvero mi aggiungete quando lo dico io Ok Ciao Ciao Ok Sofì Allora Pantini Stai iniziando il minigame Due secoli per giocare in questo minigame Sofì Ma ti rendi conto? Due secoli Due secoli Che bello Gli amico panda No Pure lei Panda Mamma mia Allora Vediamo 5 3 2 1 È iniziato il minigame Ok Andiamo Andiamo a trovare I Dei Dei funghi Dei funghetti Ragazzi Dobbiamo muovere Io ho già su un posto Qui Non è qua E qui No Ragazzi mi devo muovere C'è il timer Qui Eccolo Guardate Qua vi dico un po' di posti Dove stanno I I funghetti Allora L'altri Gli altri Andiamo a vedere noi Vediamo Vediamo pure di qua Qua sotto Ah qua raga La zona di Natale È bellissima Bellissima Ecco un altro fungo È la zona di Natale Cioè Sofì ma Cioè ti rendi conto Ad altrimenti devono mettere la La zona di Natale Cioè raga Bandini Ma per voi è giusto? Per me no Per me no raga Veramente Per me no Per me no Vabbè vediamo qua sotto Raga metto in prima persona Perché mi piace troppo Il fondale Raga è bellissimo Il fondale Ci postano le alghe dell'oceane Egg Oh Oh mio dio Mi sta bugando il mondo Ok No qua non c'è nessun Sì Che è questo? Oh non è solo un fungo Ma ne posso prendere? Ah ok Non c'è Pensavo che ne potevo prendere A infinire Ah You're pre Quindi Yes Che è successo? Che è successo? Bambini Gli altri 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 No Non ho capito No aspettate Non ho capito Non ho capito Non capire Raga Ah ma è finito il minigame Allora raga Ho sprecato Mamma mia raga Ho aspettato due secoli E non mi hanno dato le caramele Perché sono uscito fuori Eccola Sara Eccola Sara Adesso lo aggiungiamo Allora aspettate un attimo Che Ehm Aggiungiamo Eccola Pantini vabbè Pantini Eh io Cioè sono Si sarà felice Andiamo a vedere quando manca per l'altro Ehm Ah ci sei? Sì Guardati il mio cane Che carino Oddio Che carino E' bellissimo Mi piace E' bellissimo Oggi Che carino E' bellissimo Scusate Ovviamente ho avuto Un'altra Un'altra Della terza cosa Va bene Avete capito Panino carino un buono che è? si io si io c'ho solo uno e che è il gatto mummia guarda aspetta gatto mummia si so qui ok mi sto mangiando raga vabbè non ci fate caso sto mangiando vabbè vabbè bandini il video si conclude qua iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per se vi sembrano giornati e ciao